Come vede invece questa Roma che ospiterà l'Inter? Sicuramente la Roma di quest'anno è una squadra che è stata costruita in maniera ottima, sta facendo grandi cose, gioca bene e quindi è una trasferta davvero difficile. Però l'abbiamo visto più volte che comunque è una squadra che qualcosa ti concede, poi lì a Roma sicuramente attaccheranno dall'inizio e quindi qualche spazio secondo me... Sarà diverso rispetto alla gara di Milano dove invece ci hanno fatto attaccare e hanno sfruttato le ripartenze loro. Sicuramente sarà una gara diversa rispetto anche alle ultime in casa dove magari abbiamo trovato squadre che si chiudevano, dove era difficile trovare spazi e invece dovremmo essere bravi a chiudere gli spazi a loro e vedere se ci daranno la possibilità di attaccare. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 11 44 00. Prova Interchannel e poi scegli Sky Liberi di... ... ... ...